Il pallone prolungato da Simeone, poi ce lo ritrova Lichiesa che con il destro trova un gol magnifico, ancora Federico Chiesa e l'ha fatto bellissimo anche stavolta dopo la magia col Bologna, un'altra magia al Franchi per il figlio del grande Enrico Chiesa che ormai non è più una sorpresa, un talento emergente. Ormai è una splendida realtà di questa Fiorentina, palla all'incrocio e al minuto 12 la Fiorentina è in vantaggio, Simeone prolunga, Chiesa controllo destro splendido, straordinario gol di Chiesa.